Con Costantino la fede cristiana divenne un importante fattore di coesione e di stabilità per l'impero. L'unità della chiesa cristiana era quindi garanzia di continuità dell'impero stesso e del potere dell'imperatore. Proprio per questo Costantino intervenne anche nelle controversie religiose che mettevano a rischio la solidità e l'unità della chiesa difendendo in prima persona la fede cristiana dalle eresie cioè dalle dottrine che sostenevano una diversa interpretazione della fede. Così nel 325 d.C. egli convocò a Nicea nell'attuale Turchia il primo concilio ecumenico cioè la prima assemblea universale di tutti i vescovi della cristianità per condannare l'arianesimo un'eresia sostenuta da Ario un prete di Alessandria d'Egitto. Costui negava la natura divina di Cristo considerandolo solo un intermediario tra Dio e gli uomini. Lo stesso Costantino partecipò attivamente alla discussione facendo pressioni dirette perché l'arianesimo venisse condannato. Nel concilio venne stabilito il cosiddetto simbolo niceno la professione di fede che ogni cristiano doveva far propria per far parte della chiesa. Il simbolo niceno affermava che il figlio Cristo è della stessa natura divina del padre Dio. La scelta da parte di Costantino di intervenire in questioni teologiche che erano teoricamente di pertinenza esclusiva della chiesa ebbe due conseguenze molto importanti. La prima più immediata fu la definizione di una fede ortodossa o ufficiale approvata dalla chiesa in opposizione a quelle eretiche. La seconda, più a lungo termine e densa di ulteriori sviluppi, fu il tentativo di definire un rapporto tra la sfera temporale, il potere politico, e la sfera spirituale, il potere religioso. Costantino impose di fatto la superiorità dell'autorità temporale dell'impero su quella spirituale della chiesa. Ma nel corso dei secoli successivi questa posizione sarebbe stata messa in discussione, diventando il tema centrale di un lunghissimo scontro che avrebbe segnato la storia del Medioevo.